La fine del matrimonio dei Ferragnez sembra ormai inevitabile, evidenziata dall'inversione di rotta sui social network dove non mostrano più i volti dei figli. Vittorio e Leoni e loro bambini sono stati presentati solo di schieno in pose che nascondono le loro fattezze, contrariamente alla precedente esposizione dettagliata della loro vita. Questo cambio radicale rivela i disaccordi legali in corso tra Fedez e Chiara Ferragni, i loro avvocati. Anche se si sono trovati insieme per il sesto compleanno di Leone, le foto con la torta sono state scattate separatamente, a differenza del passato quando regnava ancora l'amore. I commenti sui social hanno evidenziato l'inaspettata riservatezza riguardo ai figli. Un avvocato divorzista ha spiegato che questa nuova strategia potrebbe derivare dalla battaglia legale imminente, poiché i genitori divorziati devono ottenere l'autorizzazione dell'ex coniuge per pubblicare foto dei figli. La gestione dei minori in caso di divorzio, soprattutto in giovane età, diventa complessa. Questi sviluppi suggeriscono che tra Fedez e Chiara Ferragni potrebbe esserci una guerra legale incombente.